È un momento molto importante per il Circolo che dopo due anni di pandemia finalmente esce di nuovo con organizzare un concerto così importante perché c'è una collaborazione non solo col Comune di Pesaro per un personaggio esimio come Renata Tebaldi, perché è in questo ambito il concerto, ma anche con il conservatorio. E infatti nello statuto del Circolo c'è proprio detto che l'intento del Circolo è collaborare con gli allievi, promuoverli nei concerti e anche con delle borse di studio. Quindi per noi è molto importante questo inizio. Io sono un organista, suonerò alla Chiesa di San Giovanni alle ore 21 venerdì 27 e accompagnerò questi tre ragazzi. Polina Nichina, che è un mezzo soprano, Giulia Cosantini che è un soprano e Giovanni Castagliuolo che è un tenore. Sono tutti e tre veramente dell'eccellenza del conservatorio ed è una soddisfazione perché già suonare è una cosa bellissima, ma suonare insieme agli altri è ancora più di soddisfazione, soprattutto questi giovani così talentosi. La gratitudine al Circolo Amicia Lirica con una storia ultra quarantennale e che questa volta in collaborazione anche con il conservatorio che mette a disposizione i suoi grandissimi studenti e artisti ci permette di mettere un tassello prezioso in più non solo nella strada verso Pesaro 2024, non solo di Pesaro che sta un esco della musica, ma anche nel straordinario centenario di Renata Tebaldi di cui Pesaro, assieme a Parma, Busseto e anche i teatri più importanti del mondo, sta a prendere parte con un programma composito fatto appunto di tante perle garantite alle proprie istituzioni culturali. Tra cui appunto questo appuntamento di concerto per organo e voce alla chiesa di San Giovanni Battista, chiesa monumentale che ha di per sé un organo molto prezioso, anche molto importante dal punto di vista del repertorio possibile, imperdibile concerto appunto che omaggerà a Renata Tebaldi, ma in realtà sarà anche un grande elemento di Pesaro in strada della musica in vista anche poi della mostra dedicata a Renata Tebaldi, proprio di vicino al Museo Nazionale Rossini in Via Passeri, che prenderà corpo nel mese di giugno, che sarà un ulteriore omaggio di Pesaro a questa sua grandissima concittadina di cui ricorre il centenario.